Ho parlato che dava i soldi ai pensionati, l'aumento, l'aumento e che se no, le armi, non le armi, ma che armi? Mi dispiace ma sono deluso da tutti. Voglio aiutare quelli più poveri, capito com'è? Intervio dai, dai intervio, stiamo a posto dai, sono d'accordo con 5 Stelle. Con tutti gli sforzi che l'uomo come governo possa fare, il massimo non lo riescerà mai a ottenere perché non ha la capacità di autogovernarsi. Quindi pur tutto l'impegno benevolo, con le buone intenzioni, la perfezione di un governo umano non ci potrà mai essere.